Ben ritrovati su Ad Maior Avertite, è finita la serie di video sull'introduzione al culto romano per cui ritorno ai miei abbigliamenti da scaricatore di porto di fregene. Oggi visto che abbiamo fatto questi video un po' lunghi volevo farne uno un po' più leggero ritirando fuori una cosa simpatica che c'era stata segnalata dalla pagina Facebook Stupidario Marcani, il lato imbarazzante della magia, in merito alla fondazione di Roma. In una discussione che ruotava intorno ai romani, i sardi, gli etruschi, ad un certo punto un certo Oscar scrive Ma non sparare... parolaccio che non si deve dire Tra l'altro Roma venne fondata e amministrata dai sardi atlantidei Re, reges, soliti etruscorum, qui sardi appellantur, cit festo Io ero rimasto così quando lessi questa cosa e dissi Come? Festo dice questa cosa? Festo è un autore che ha pubblicato una specie di dizionario E insomma quindi così, per cui non mi tornava molto Allora che cosa ho fatto? Ho aperto il sito di Perseus Ho messo questa frasetta che lui ha inserito Così mi ha tirato fuori il lemma di Festo Perseus è un sito che è una figata Raccoglie tutti i testi latini e greci naturalmente in lingua originale E con il tasto cerca si possono trovare tutti i termini che ci servono Ora, questa frase che lui aveva tirato fuori Nella realtà faceva parte di una frase ben più lunga Come potrete immaginare E che ha un significato completamente diverso Vi leggo direttamente la traduzione per non essere noioso Questo proverbio sembra derivare dal fatto che Nei ludi capitolini Celebrati dai connazionali vestiti con la toga pretexta Si fa di solito una vendita all'asta di Veio In cui il banditore mette in vendita, ultimo e penoso Un vecchio che indossa la toga pretexta e porta una bulla d'oro Questi erano soliti ornare i re etruschi Ok? Che è questo reges soliti etruscorum Ok? È da qui che parte la citazione che lui ha messo Che si chiamavano Sardi Perché il popolo etrusco nasce da Sardi in Lidia Il terreno che lasciò Il tirreno Scusate Tirreno Che lasciò questa città con un gran numero dei suoi abitanti Si stabilì in quelle parti d'Italia che oggi portano il nome di Etruria La Lidia è una regione della Turchia Ok? E lo era anche in antichità Per cui questo qui che cosa ha fatto? Ah, e se volete andarvelo a vedere Se non vi fidate La citazione di Festo è il lemma Che si trova alla voce Sardi Venales Il riferimento è 17178 Per cui questo che cosa ha fatto? Adesso lui o lui è l'ultima di un inganno a sua volta Oppure è stato proprio lui a tirare fuori questa citazione infame Lui ha preso una citazione totalmente decontestualizzata La riproposta in un modo in cui la traduzione poteva sembrare in qualche modo Che sostenesse quello che diceva lui Ma nella realtà assolutamente no Per cui quando vengono citate le fonti Sì, bene, ottimo Ma andatele a verificare Andatele sempre a verificare Perché vi dico che molto spesso Anche in testi pubblicati Io ho trovato fonti che sono state citate male Cioè veniva citato un riferimento Nella realtà quel testo lì era da un'altra parte Oppure veniva alterato il testo originario latino Oppure come in questo caso Veniva riproposto in modo alterato Cioè veniva riproposto solo parziale Rendendolo reinterpretabile Per cui le fonti quando uno le cita Le fonti vanno citate sempre E già il fatto che uno cita le fonti Dà già un valore in più a quello che dice Ma poi queste fonti vanno verificate Perché se no come in questo caso Si trasformano Ok scusate mi sono accorto solo in post produzione Che il video si era tagliato E niente vabbè Quindi le fonti vanno sempre verificate E controllate anche nei testi cartacei Perché molto spesso Fanno come cavolo gli pare Ci sono addirittura Ho trovato delle pagine facebook In cui riportano come fonti In merito a quello di cui stanno parlando Dei punti in cui c'è il termine Sul quale stanno facendo una riflessione Che però è totalmente buttato lì a caso E non sostiene in alcun modo Quello che stanno dicendo O addirittura sostengono esattamente l'opposto Per cui controllate sempre le fonti Che vengono citate E niente Io spero che questo video Anche se così tagliato E rimontato un po' Come viene Vi sia piaciuto E se è così Mettete un placet A voi non costa niente Ma per me è veramente molto molto importante Perché aumenta la visibilità Di questi video E quindi permette ad altri Permette al canale di crescere E se volete vedere altri video Sulla religione romana Dalla prossima settimana Ricominceremo con video un po' più seri E iscrivetevi al canale Vallete optime In pace ad Eorum Dalla prossima